Ad Acireale questa mattina il Vescovo della Diocesi e Presidente della Conferenza Episcopale Siciliana ha ricevuto la dirigenza e i giocatori della Maggiore Squadra Sportiva di Calcio della città accese durante l'incontro. È stato illustrato il progetto che ha fatto rinascere la formazione Granata. Monsignor Antonino Raspanti si è complimentato per l'impegno portato avanti sottolineando l'importanza dello sport nel contesto sociale. La formazione ha poi omaggiato il Vescovo con un gagliardetto e una maglia recante sul retro. Il cognome è il numero 1.